Sarà anche la quarta Coppa Europea per importanza, ma regala comunque soddisfazioni. Dopo la semifinale di Euro Cup della Grissin Bon Reggio Emilia contro il Lokomotiv Kuban, la Scandone Avellino e la Reier Venezia staccano il pass per le semifinali di FIBA Europe Cup. I campioni d'Italia di coach De Raffaele escono sconfitti dalla trasferta russa contro il Nini Novgorod con il risultato di 94-90 ma, grazie al 10 della gara d'andata, accedono ugualmente al penultimo atto della competizione. La Reier affronterà gli olandesi del Donar di Groningen in semifinale, che ha superato il Mornar nei quarti di finale. Vittoria invece per la Scandone Avellino, che supera con il risultato di 85-68 la Juventus Utena e si prepara così ad affrontare i danesi del Bakkenbers di Horus in semifinale. Possibile dunque una finale di FIBA Europe Cup completamente italiana. Video Monster Weekend, la dura legge dell'ex di Tyrus McGee, che castiga la Reier Venezia.